Signor Ministro, la capienza delle carceri italiane è per 50.931 persone. Sono recluse attualmente 53.785 detenuti, quindi ci sono 2.854 persone in più nelle carceri italiane, vuol dire che c'è sovraffollamento e promiscuità. Per questo la Conferenza dei Garanti Territoriali delle Persone Private della Libertà ha rivolto un appello al Parlamento per rischio di contagio, perché non c'è il distanziamento nelle carceri e perché è difficile garantire il livello igienico di contrasto al Covid. I dati del Garanti dei diritti dei detenuti ci dicono che al 22 novembre scorso risultavano positivi al Covid 732 detenuti e 156 tra il personale penitenziario. L'unica risposta, l'unica strategia attuata è quella di chiudere e ci preoccupa molto la chiusura della scuola all'interno delle carceri e quindi la conseguenza e mancanza di ereducazione. Concludo riferendo le parole del Capo Dipartimento Istruzione del Ministero che dichiara che va giustamente garantito il diritto all'istruzione nelle scuole con sedi carcerari, oltre alla necessità di fare uno screening attraverso i tamponi. Quindi, anche a nome del collega Tondelupi, chiedo se si proseguirà l'attività scolastica e, come intende il Ministro Ovviare, al sovraffollamento e al rischio che le carceri diventino focolaie. Grazie. Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha facoltà di rispondere. A lei la parola, Ministro. Grazie, Presidente. Alla data del 24 novembre 2020, su 53.720 presenti negli istituti di pena del Paese sono stati registrati 826 casi di positività al Covid-19, di cui 804 gestiti dall'area sanitaria interna, dei quali 772 asintomatici e numero 22 ricoverati presso luoghi esterni di cura. 1042 risultano invece casi di positività registrati fra gli operatori penitenziari, 970 relativamente al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e 72 fra il personale amministrativo e dirigenziale del DAP. Di questi, 1013 si trovano in quarantena presso il proprio domicilio. 19 presso le caserme annesse agli istituti di pena e 10 risultano ricoverati in strutture ospedaliere. Presso gli istituti minorili, su 299 presenze, a fronte di una capienza di 536 posti, 3 sono i positivi al Covid-19, uno dei quali era tale già al momento del suo ingresso. In questi mesi il Ministero ha continuato a predisporre misure organizzative volte a limitare al massimo il rischio salute di tutte le persone che lavorano e vivono negli istituti di detenzione, criteri di ammissione al carcere con le attività di triage all'ingresso sui detenuti nuovi giunti o provenienti da altri istituti, 145 sono le tensostrutture installate a tal fine, e il relativo periodo di isolamento preventivo fino all'esito del tampone, la suddivisione in tre tipologie, isolamento precauzionale, isolamento per contatti stretti con soggetti positivi, isolamento per i positivi, misurazione della temperatura a chiunque entri in istituto, la fornitura, edp, mascherine, gel, tutto sempre a stretto contatto con le autorità sanitarie locali. Quanto al profilo dell'istruzione in carcere, sono ben consapevole della sua rilevanza costituzionale, non solo come diritto in sé, ma altresì come elemento decisivo nel percorso di rieducazione di ogni detenuto, e con ancora più importanza in ambito minorile. Ad oggi, in generale, l'attività scolastica nel circuito minorile prosegue in presenza, salvo eventuali sospensioni temporanei ed eccezionali, come peraltro avviene per la totalità degli studenti del Paese, su disposizione dell'autorità sanitaria, o per specifiche ordinanze nazionali, regionali o locali. Negli istituti per maggiorenni, dove si sono avvertite le criticità evidenziate dall'interrogante, si stanno portando avanti tutte le procedure per implementare le dotazioni tecnologiche che permettano la didattica a distanza nel momento in cui la stessa dovesse essere prevista come necessaria. Voglio ringraziare in questa sede tutto il personale delle aree educative per l'attività che sta svolgendo per consentire la ripresa e la prosecuzione dell'attività di apprendimento. Questo perché ritengo sia fondamentale non fermare il processo didattico a patto che sia possibile garantirne lo svolgimento in assoluta certa sicurezza. Grazie. Grazie a lei, Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Maurizio Lupi. A lei la parola, deputato Lupi. Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, su queste cose non ci si può dichiarare né soddisfatti né insoddisfatti. Stiamo parlando della dignità della persona, della certezza della pena, di un motto, anzi due motti, che prima gli agenti di custodia e poi la Polizia Penitenziaria hanno messo come spirito e scopo del loro agire. Fino al 1990 era vigilando redimere. Poi diventata Polizia Penitenziaria garantire la speranza è il nostro compito. Settimana scorsa con il collega Toccafondi siamo andati al carcere di Re Bibbia, uno dei carceri che viene a proposito della rieducazione e rinserimento indicato a modello. Una ASL aveva appena impedito la possibilità, per esempio, di proseguire nell'istruzione. Il carcere di Re Bibbia, l'abbiamo visto noi con i nostri occhi, le celle di sei persone sono focolai pericolosissimi per il Covid. Il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, anche per il più debole, anche per chi ha sbagliato, è il diritto alla dignità ad essere persona. L'idea che noi abbiamo di pena e che ci auguriamo abbiamo tutti in questo Parlamento è che, indipendentemente dalla certezza della pena che deve essere scontata perché uno se è lì e perché ha sbagliato, è che la prima causa che toglie la dignità è il sovraffollamento delle carceri e questo crea ulteriormente l'assenza di senso e di significato. Attenzione, attenzione, abbiamo già sperimentato che cosa può accadere a marzo, lei se lo ricorda benissimo, ne abbiamo discusso qui. I carceri possono diventare un'ennesima esplosione della pandemia e un ennesimo luogo dove la dignità della persona è quel vigilando redimere o quel garantire la speranza è il nostro compito nonostante gli sforzi della Polizia Penitenziaria e dei direttori di carceri viene meno. Questa è la sfida, questo è l'invito che le facciamo anche con coraggio in un momento eccezionale come questo e grazie Presidente di evitare per esempio quei dati che ci ha dato che dicono che il sovraffollamento è ancora una piaga in questo momento del nostro sistema penitenziario. Grazie. Grazie a lei.